Ehi la ciurma, io sono il mazziettesse e oggi avevo voglia di registrare un po' di paladins è un po' di tempo che sono trovato a giocarci e perché non iniziare con uno spacchettamento mi è arrivata una gold chest quindi iniziamo con uno spacchettamento come gli youtuber quelli famosi, quelli giovani apriamo la chest e vediamo cosa salta fuori ah uno spray uno spray raro ok posso equipaggiarlo così mi ha dato no mille gold ok questo giornaliere cosa abbiamo? fai 10 partite vinci una partita 2 partite come damage champion ma tanto non ce la farò mai fare 2 partite come damage champion eeeh pa 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 c'è stato un update su Victor ma voglio vedere un attimo se posso come com'è che si equipaggiavano gli spray? mi ricordo mica più load out customize eeeh voce no forse su store no su cos'è il battle pass purchase the battle pass to claim all the rewards you've earned eeeh ok ma devo essere VIP per questa roba qua se no 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 eeeh eeeh esci via no eeeh ah uh qua load out forse title frame spray ecco vai con festive questo questo qua questo qua ecco va bene va bene anche se è natalizio è l'unico sparai che ho va benissimo ok si ma voglio uscire da questo no no eeeh ecco ok eeeh not active eeeh no ma infatti non lo voglio attivare eeeh giochiamo giochiamo ma devo fare le ranked ma non lo voglio fare adesso voglio fare un deathmatch dai oggi sono per deathmatch e vediamo con chi riusciamo a giocare vediamo con chi riusciamo a giocare per chi non lo conoscesse ma dubito ci sia qualcuno che lo conosce paladins è un free to play eeeh fps alla overwatch più o meno si più è vera come overwatch è solo che è gratuito è un pochettino fratello minore anche se non sono imparentati molto bello degli stessi sviluppatori di smite potreste conoscere che era un moba un po' diverso dal solito eeeh eeeh si però ok intanto ci sarà un tizio che dice no stavo scherzando non entrerò in partita ecco questo qua ne sospetteremo tutti lui e non entrerà ah invece è entrato scusate rimane solo front line e support eeeh ce l'è in rotation potrei provarla ma eeeh vorrei fare un po' di seris seris cioè non so giocarla bene come come support ma mi piace seris come tipo di abilità vado un po' troppo sul danno in realtà che non sul curare gli alleati ma non mi dispiace per nulla front line sarei andato su eeeh ma perché per perché non prendete un front line perché abbiamo due no si due ad carry e due eeeh mage diciamo ma ne sto in front line eh no tre damage tre damage devo leggermi le patch notes però per questo evento che c'è adesso effettivamente mi ha mi ha colto un po' la spropista però ho visto che ci sono dei frame apposta degli avatar nuovi ci siamo no manca ancora Lex e Sky Lex il nostro Magistrates Archives si non mi dispiace come mappa per una deathmatch si ci sta ci sta ci sta vediamo se sono ancora in grado io sono un hub a questi giochi come potete sapere e in più un po' che non ci gioco quindi vedremo un po' dai i loading screen quelli belli qui non ho mai capito perché ad alcuni fa vedere l'immagine del personaggio ad altri no sappiamo che è Shaleen lui però perché fa vedere solo il il simbolino la di di Paladins non fa vedere ma ogni tanto anche agli altri non lo fa vedere non ho capito perché pronto pronto non ho tutta la giornata qua tra un attimo devo andarmene io andrei su questa come carte uso il set base non sono ancora abbastanza abile per poter usare meglio il tutto approviamo questo spray allora beh dai non è male almeno è uno spray diverso cioè abbiamo uno spray diverso da quello che usano tutti gli altri sempre vai che bellino è un po' fuori tema ma vabbè come abilità series che cosa ha allora l'attacco normale lascia delle sorte di marchi che poi possiamo fare esplodere con la Q con F diventa invisibile col destro cura e con la E attrae tipo i nemici tutti intorno eccolo andiamo qua yes ahia chi da dove ma porca miseria eh se avevo sky dietro non me ne sono accorto e mi ha detto l'ultimo colpo l'altro eeeh dove siamo volevo curare lei ma non è sempre così facile ma no ma porca miseria no sky si è giocata bene è tremenda doppia doppia allora vediamo un attimo di andare a fare un po' di danni qua dietro bravo bravo ottima mossa ottima mossa mentre io sto giocando davvero molto ma allora dove è andata sky l'ho vista l'ho vista che girava di qua ahia chi da dove chi da dove ma 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 quanta cavolo di area aveva ah no mi ha colpito lei chi è unstoppable quel eh no è quel tankone là noi non ne abbiamo di tank quello è un gran bel casino dai che ti curo un po' ma da dove da dove da dove da dove è là no ahia e invece sì che erano da prendermi no miseria stiamo penando davvero 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 tanto davvero troppo allora vado un attimo a prenderli alle spalle sti qua che no dove yes perfetto me l'ho ucciso di Q perché sennò aia vai che ti curo vai 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 ma vabbè l'hanno ucciso loro meglio dai che si può fare eh vabbè vabbè no da dove da dove da dove da dove ah era l'altro sopra is an illusion beh però ce la stiamo giocando abbastanza dai eh no eh no eh no troppo danno troppo danno tra l'altro io sono un support non sono eh vabbè eh vabbè eh vabbè niente mi aveva visto mi aveva preso mia eh vabbè vabbè ho fatto il possibile erano due contro di me cosa potevo fare no 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 eh no eh vabbè managgia quanto cavolo di danno mi fa quello ma eh sky di nuovo lei assist però cribbio e sta giocando davvero molto bene eccola di nuovo eccola di nuovo eh niente ma ha preso la kill di nuovo lui ma come eh niente manca un punto hanno vinto eh la fine dobbiamo stare tutti insieme qua sennò abbiamo ma abbiamo perso l'uguale perché basta che ce ne muoia uno non ci morire e niente c'è morto il tizio in fondo il nostro Lex così neanche la first win prendiamo eh niente e niente vediamo come è stato top del eh quando ha ucciso me ha preso la tripla eh sì brava no davvero si è meritato l'azione della partita perché è stata davvero brava quella sky ok salito di livello di series ah ma da dei premi il battle devo informarmi next reward in the bag quindi devo fare tot exp e mi da dei premi tipo ma devo tipo pagarlo next reward agony next reward gold ok best in class ah best support ma per loro non ne avevano vero eh infatti non ne avevano erano tutti damage anche loro no erano due mage e due damage e un tank io sono quello che ha curato di più ma ha curato niente ha curato niente ma io non voglio criticare però cioè è possibile che il nostro Lex ha meno della metà del danno di quanto ne ho fatto io cioè il loro Lex quanto ha fatto 35.000 2.14 eh beh non che io possa dire tanto che sono 3.10 però sono anche support che non ho supportato niente comunque comunque niente spero che vi sia piaciuto il video io vi ringrazio per la visione ci vediamo prossimamente con un altro video ciao a tutti ah fatemi sapere nei commenti se per caso vi piace questo genere di gioco potrei farvi vedere quanto sono scarso altre volte quanto volete ciao